Cosa vuol dire essere Roof Pro? Vuol dire avere la garanzia che alle spalle dell'installatore c'è una ditta strutturata che fornisce dei supporti tecnici, in primo luogo a garanzia del risultato della copertura sia tecnicamente che legislativamente. Ciò vuol dire avere un fascicolo tecnico redatto direttamente dal produttore che rispetta tutte le caratteristiche e le normative in vigore al momento della realizzazione. Oltre a questo abbiamo anche una maggiore garanzia per il cliente sulla garanzia che viene rilasciata direttamente dal produttore. Grazie per la visione!